Ciao a tutti ragazzi, io sono quella cosa che vedete riflessa nel vetro, l'unico modo che ho trovato per realizzare questo video. Siamo al final table IPT, certo un grande final table, abbiamo Nicolò Calia che sarà pronto a difendere la sua sedia, non è il più corto in fish, quindi sicuramente darà del filo da torcere agli avversari, sappiamo però che Nicolò ama attendere, quindi speriamo anche che le carte vengano in suo aiuto. Io ieri sera ho realizzato il mio torneo stampa, purtroppo mi hanno bustato, il bianco rovinato quindi non potevo pretendere più di quel tanto e mi hanno colto in fragrante durante una mano completamente in blef in cui cercavo di rappresentare un colore o quantomeno una copia ma mi hanno chiamato con bottom pair quindi evidentemente ho giocato veramente malissimo questa mano. Noi siamo in attesa dell'inizio del final table, intanto come vedete mi sto fumando una sigaretta anche se non è bello farlo vedere a video, quindi cerco di tenerla il più nascosta possibile e poi comunque sempre lì ombra trattasi, quindi non potete assolutamente credo vederla. Noi ci diamo appuntamento comunque sul forum, tutti gli aggiornamenti verranno postati lì e come sapete faremo il video della sala e anche il video finale. Devo dire che il video finale non sarà assolutamente paragonabile a quello degli altri eventi perché non avendo il final table non ho neanche le condizioni di luce per realizzare delle belle riprese. Cercherò comunque di dare il mio meglio per soddisfare la vostra curiosità e quella di tutti quelli che riusciremo a conquistare nella nostra grande comunità PIF. Ciao a tutti ragazzi e facciamo tutto il tifo per Calia, mi raccomando. Ciao a tutti!